È stata una gara bellissima, perché è incredibile, l'ultima gara dell'anno, la più importante. E cosa vuoi di più? Sono a Montello, sono a Montello e va tutto bene. Allora, bellissima gara, il tuo campionato è cambiato quando hai nato Tamburini nel box? No, è cambiato niente, è stato solo una coincidenza perché è stato il momento in cui ho fatto un po' più di chilometri, un po' più di test e abbiamo trovato la quadra. Tamburini, lo ringrazio. Ti sei trovato in mezzo alla lotta per il titolo fra Donetti e Piro e questo coincidente. Non l'ho neanche guardata. Non vuoi di nulla? Non vuoi di nulla. Questo finale di stagione cosa ti fa pensare per il prossimo anno? Che è il momento di festeggiare. Ciao raga, grazie.